Allora, per sapere, questo è il progetto, il comunicatore che poi è stata la provincia, il loro, il loro mistero, la provincia della fabbrica, la zona, la stagione 19, più sopra, la zona, diciamo, sta in classico, la città del benessere, come? La città del benessere, la città del benessere, però in offenza, questa amministrazione, che ha fatto, cioè io, in un po' di sindaco, ok, certo, perché sono privati, che vengono a investire, e dico bene, allora, mi sento, in un'impresa, sul territorio, un 30% deve essere dipendenti dal quino di Casone, in questo caso, però, i signori di Polizia, sta sapendo che sono quasi che, diciamo, si è pensato, come hanno fatto a livella a Fragù, no, i signori di confinio, i nostri temi, di stato, ci sono decima, no, la volta la diciamo che fosse del dono a Casone, quando non ci è stato più circocizio, confinio, non ci sono più, siamo tutti Piasoriati, effetto, noi dovremmo comunque, noi siamo aperti, e lo scusa, questo è importante, che il futuro, il futuro perché, signori mi chiede a sapere, che a soli ha un'intensità più rispettosa rispetto al territorio, mi spiego, come porti, quasi come porti, l'Università d'Europa più, come l'università verde, zero, rispetto agli abitanti, e a soli sta fino a casa, ci trovano affatto, ma noi abbiamo una piccola average base, tutti i bordi, il pane dei fiori, il snyder, quello cieco dell'olvo, l'altra occasione di ci mette, mi spugge, non è finito. A zona via Capri, nasce la connessione, dove c'era questo commerciato, in Italia, è un'industria di costruzione dove, più o meno, c'è un po' di vento, e poi abbiamo trasformato la vita lì, purtroppo c'è l'unione, questo si è rispondito. Allora, qui non dobbiamo essere vicini su questo, ora l'unica, diciamo, i tre punti nostri, come il territorio d'abbiglio, sono questi, perché hanno dei fiori, snyder e l'olvo, perché comunque siamo noi più vicino a l'olvo, che è casuale, se noi possiamo arrivare a piedi, noi invece no, comunque si può arrivare con marchi, con un mezzo, e questi, noi dobbiamo che servizio, e se direi che questi si fa solo con il meglio nostro, dico tutti quanti noi, ora bisogna fare una bella lista, chi sulle cantità, poi stare a Mariano, ci fanno di noi, diciamo, delle strategie, perché la voglia di fare delle strategie, sono di farlo, e poi l'impegno nostro è quello di far votare i terpini e tendere a votare, perché noi avremo poi giovedendo in mente altre cose, cose nuove che usciranno, ho quella lista civica, che ci vuole contrastare, come diceva prima, ma Mariano, guarda Dio, come Mariano, come altri amici, conosco bene i leoni di Casone, e stanno uscendo fuori un'altra volta, non voglio fare un'altra volta, perché io ho suonato con chi c'è polizia, e in realtà, se davano questa che c'è, non mi raccomandino, qua tutti i politici di Casone hanno passato, diciamo, per la scuola, poliziani, si può dire, che c'è una famiglia molto forte e radicabile per quello di Casone, ma troppo un'altra famiglia è meglio di una famiglia che ha avuto questo potere, e mai, dico mai, cioè qualche coalizione abbia pensato, se abbiamo un sindaco, abbiamo questi studenti, professionisti, giovani, adulti, che potrebbero fare politica, avrebbero le capacità di amministrare questa città, ma ti hanno passato i piedi, tanti, ma io a proporre un primo punto, se no, solo perché noi siamo un terzo di Casone, siamo a 30.000 abitanti, siamo a 30.000 abitanti, alzare che si vado, e tante, e 30.000 abitanti hanno sull'amministrazione, e lo sono gli spiriti. Allora, guardate, ci sono impegnanti, dicevano, le migliori si dispiessano alle otte, che erano ragazze, in casa, andavano a vedere se stanno andando, dicevano, e dicevano, vieni che portate gli affiocchi, vi parlamo, dicono, belle parole, belle cose, però quello che è importante, far votare alla gente, far capire perché dobbiamo votare, dopo che, allia a votare qui su, con l'assenza, far capire qual è il motivo di votare, ci sono meglio di capire, scusate, ve lo dico, ho un cuore che conosco quella gente, come conosco e li conosco italiani, li conosco sociali, perché è vero affolire che ha fatto un amministratore molto come te, come dicono, la vecchia era un, ma questa è peggio, la vecchia è peggio, ma non fa peggio, mi spiego, scusate, grazie.